E' stato il grande protagonista del match con la Sernitana, una punizione gioiello, complimenti Gaston. Grazie mille, grazie mille. Anche perché, diciamola tutta, sei il giocatore più discusso, ma il destino che spetta i migliori. No, 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 non mi sento... In discussione? No, eh? No, mi senti un po'... Ci vuola tutto addosso? No, no, non sapevo che era in discussione. Zeman ha detto che fino a qualche settimana fa Brugman era imprescindibile, adesso devo pensare più alla squadra e meno ai singoli. Poi a fine partita ha detto che Brugman non è in discussione perché è un giocatore di grandissima qualità. Ringrazio per le parole del mister, ma io non mi sento... non mi sono messo mai in discussione. Sì, mi piace il ruolo che sto facendo, diciamo, dentro lo spogliatoio, dentro la squadra. Mi sento... In campo un po' meno, insomma, il ruolo in campo. No, no, in tutte... il ruolo, diciamo, in tutto, dentro della squadra. Sì. Mi sento importante e quello sicuramente mi sta facendo crescere di maturità. Tu sei un sudamericano, se vogliamo, atipico, silenzioso, riservato. Sembri estragnarti a volte dalla partita. Insomma, ti mancherebbe la garra oppure la cazzimma, no? Alla napoletana maniera. Sì, dopo la partita mi hanno detto... Una persona, se mi ha avvicinato, mi ha detto questo. E dipende come lo vedi. Sì, magari la cazzimma, o come si dice nel napoletano, è lottare e farsi vedere di più, è una cosa. Magari facendo gol, i gol importanti, magari è quello la garra o è diverso. Non solo quello che dimostra facendo un contrasto, questo è solo garra. Sicuramente, quando in momenti di difficoltà ti metti la squadra addosso e fai delle cose importanti, è anche quello. Centrare i play-off sarebbe, secondo te, una conquista oppure non centrarli sarebbe un fallimento, come ha dichiarato il Presidente? Noi sicuramente adesso pensiamo ad entrare dentro il play-off. Sicuramente se non entriamo sarebbe un bluff, perché comunque la squadra ci crede, l'obiettivo che abbiamo adesso è quello. Quindi è importantissimo centrare, non importa in terzi o ultimi. Tanto sappiamo che è successo l'anno dei Varoni con Odo, che siamo entrati all'ultimo e per un palo non siamo entrati. Un po' legno di Melchiorri. Me lo sogno ancora. Ah sì? Ci credevo tanto quell'anno, diciamo che si è scappato e l'obiettivo finale è di un niente, perché sicuramente abbiamo meritato, in quella finale abbiamo meritato molto di più. Tornando al gioiello, un capolavoro balistico, hai mirato sul palo del portiere, perché? Calcio sempre sopra la barriera e Fiorillo sempre mi dice calcio sul palo del portiere, calcio sul palo del portiere. Diciamo che questa era una posizione dove vedevo che il portiere non vedeva la palla e ho pensato a tirarla lì. È andata benissimo, quindi devo dire a Vince che ho seguito il suo consiglio. Lui è un portiere, quindi ne capisci magari di più in questa situazione cosa pensa il portiere. È un bel consiglio che mi ha dato e grazie a lui ho fatto questo gol. Tu hai resistito, no? Perché è chiaro che ti sarebbe piaciuto giocare più playmaker. Qualcun altro in squadra non ce l'ha fatta e ha chiesto di andare via. Mi riferisco a Benalega, con il quale hai avuto grande affinità anche al di là del rettangolo di gioco. Ti è dispiaciuto? Sì, sì, sicuramente. Benalega è un giocatore importante. Penso che lui non si sentiva tanto importante quest'anno in questa squadra, quindi ha optato per andare in un'altra squadra. Sicuramente sta facendo benissimo. Ho visto le ultime tre partite che ha fatto, sta facendo benissimo e sono contento per lui. Se merita la Serie, sicuramente. Senti, sono finora 14 gol che hai segnato, 118 presenze. Sei già un giocatore importante di questa squadra. Tra l'altro il terzo gol su punizione, perché mi dicevi poc'anzi ai microfoni spenti, io non lo ricordavo, anche col Monaco, in amichevole precampionato 2013-2014, contro la squadra allenata allora da Claudio Ranieri, l'altro invece in campionato contro il Carpi. Però questo è il più bello in assoluto. Sì, 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 questo è anche importante, quindi sicuramente è il più bello che ho fatto su punizione, sì. Spesso hai segnato quest'anno, sei stato decisivo, hai regalato 11 punti dei 34 sin cui totalizzati. Una gran bella soddisfazione, no? Sì, sì, sicuramente. Mi sento importante, quindi portare i punti alla squadra è sempre bello. Il mio record personale, diciamo, ce l'ho battuto, quindi... Grazie al nuovo ruolo. Sì, sì. Grazie al nuovo ruolo e anche alla maturità che ho costruito, diciamo, nel passare dei anni. Adesso mi sento pronto per la massima categoria. Noi scherziamo, Gaston, ti vogliamo provocare, ma lo facciamo così col sorriso sulle labbra, perché quando si parla di calcio bisogna sorridere. Ma tu e Zeman avete un rapporto? Cioè, è vero che lui parla poco oppure comunque ti stimola durante gli allenamenti? No, diciamo, il mister parla pochissimo. Io sono uno che parlo anche molto poco, quindi... Figuriamoci. Ciao, come stai? Bene, bene. Ciao, a posto. No, non si parla tanto, però si capisce quello che vuole. Senti, il gol più bello però da quando stai a pescare, lo ricordo, marzo 2014 a Latina. Un assolo fantastico. Sì, sì, quell'anno diciamo che mi riusciva tutto. E quel gol è stato bellissimo. Mi ricordo che dopo Cosmi mi ha preso e mi ha detto, devi fare così sempre, ma magari se hai fatto così sempre. Faceva così, ma diciamo che quello sia il gol più bello che ho fatto. Ti senti più regista. Però in quella stagione, in realtà, nel 3-4-3 prima di Marino, poi anche Cosmi, diciamo, che ha proseguito quel tipo di sistema di gioco. Al tuo fianco c'era Zuparic, che fungeva quasi da frangiflutti, quindi tu eri molto libero comunque di spaziare, di muoverti. Eri un regista tipico, in realtà facevi tutto. Sì, sì, quell'anno lì ho iniziato il regista, ma dopo per i risultati abbiamo cambiato formazione. Ho giocato al centrocampo, prima con Rizzo e dopo con Zuparic, che abbiamo trovato, diciamo, un legame molto importante. Lui faceva il legno e sì, quell'anno lì mi sentivo benissimo perché, diciamo, pensavo più all'attacco e non tanto alla difesa. E ho fatto bene quell'anno lì. Fino alla partita col Siena, maledetta. Quella partita, diciamo, è stata la più brutta che ho fatto perché è un infortunio lungo e sicuramente non ci voleva perché era un anno importante per me. Però diciamo che è passato, diciamo che quei sei mesi che sono stato fuori ho cresciuto tanto e ho visto delle cose che magari stando dentro ogni volta, dentro lo spattatoio non li vedi, che è la vita in realtà. Quindi, diciamo, non volevo passare ma sono contento che ho passato quel periodo. Sicuramente ti ha fortificato, no? Anche nella testa quello che è successo. Tutto può ancora accadere, noi te lo auguriamo. Chiudiamo perché c'è in studio un tuo grandissimo estimatore, oltre al sottoscritto naturalmente, Paolo Toro. Cosa vogliamo dire a Paolo? No, perché ogni tanto bisticciamo. Io dico che Brugman deve dare di più perché ha grande qualità. Ma no, la colpa è del mister, dice Paolo. E tanto lo ha detto pubblicamente, lo deve mettere regista. Che diciamo a Paolo? Lo saluto e grazie per il sostegno perché mi scrive sempre, quando finisce ogni partita, lo ringrazio. E lo saluto.